In particolare abbiamo creato questa isola molto interessante per quanto riguarda applicazioni legate al quick service restaurant, quindi il fast food, con applicazioni sia in termini di schermi di dimensioni, 110 pollici, piuttosto che applicazioni touchscreen per quanto riguarda l'order enter e quindi la possibilità di poter ordinare, quindi scegliere il mio prodotto, ordinarlo e attendere il momento della consegna. Quindi tramite la nostra applicazione software di content management system SuperSign è possibile avere a disposizione un tool che mi consente non solo di creare contenuti e di condividerli su degli schermi, la classica funzione di menu board, ma anche la parte di gestione proprio del touch per quanto riguarda la scelta e l'ordine del cibo, molto interessante e sviluppata recentemente a bordo di SuperSign. Abbiamo chiaramente anche schermi ad alta luminosità per quanto riguarda applicazioni da vetrina, così come anche la parte outdoor, quindi non solo l'indoor ma copriamo benissimo anche la parte outdoor, quindi con soluzioni 32, 49, 55, 75 pollici, ibrateness, quindi parliamo di luminosità dai 2.500 ai 4.000 nit, proprio per andare in esterno, quindi completamente outdoor. Grazie. 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 Grazie a tutti.